Cari fratelli e sorelle, Gesù è entrato in Gerusalemme come re umile e pacifico. Apriamo a Lui i nostri cuori. Solo Lui ci può liberare della nemicizia, dall'odio, dalla violenza, perché Lui è la misericordia e il perdono dai peccati. Preghiamo per tutti i fratelli e sorelle che soffrono la causa della guerra. In modo speciale penso alla martoriata ucraina, dove tantissima gente si trova senza elettricità a causa degli intensi attacchi contro le infrastrutture che oltre a causare morti e sofferenze comportano il rischio di una catastrofe umanitaria di ancora più ampia dimensione. Per favore non dimentichiamo la martoriata ucraina e pensiamo così a Cassa che soffre tanto e a tanti altri luoghi di guerra. E ora ci rivolgiamo in preghiera alla Vergine Maria. Impariamo da Lei stare vicino a Gesù nei giorni della Settimana Santa per arrivare alla gioia della Resurrezione. in capo da lui. Grazie a tutti.